Davide Possanzini, e arrivò anche il giorno in cui sarà solo anche un amichevole e memoria, Davide Possanzini deve affrontare l'avversario e il suo Brescia. Eh sì, non è una parita come le altre, diciamo sempre parita come le altre, in realtà non lo è. Anche se è un amichevole. Sì, in realtà non lo è perché ci abbiamo lasciato il cuore là, io e il mio staff. Però sono contento perché comunque giochiamo contro una squadra forte, blasonata, con una storia alle spalle. E quindi per noi è un test veramente importante e sono contento di farlo contro il Brescia. Perché comunque sono legato e poi vedo la maglia nuova che mi piace. Come mi avevi detto un mesetto e mezzo fa, circa nell'intervista fuori dallo stadio, l'importante è che Mantova-Brescia sia un amichevole in una partita di campionato in Serie C. Assolutamente, un amichevole. Perché c'è stato questo rischio, perché voi siete già ufficialmente ripescati, siete stati i primi riammessi e il Brescia non ancora, ma ormai è praticamente certo. Ma c'è stato il rischio di un Mantova-Brescia in C? Sì, assolutamente. Io sono contento così, perché come dicevo è una squadra forte, quindi è una squadra forte in meno da affrontare. Però penso che sarà una bella amichevole e sono molto molto curioso. Ne parlavo prima col direttore perché, come dicevo prima, è una squadra forte. E per noi è un test importante. Il primo test importante è perché abbiamo sempre giocato contro la squadra di Serie D, che comunque ci hanno creato delle difficoltà e voglio vedere a che punto siamo contro una squadra forte come il Brescia. Già tantissimi biglietti venduti anche se si gioca a tre giorni dal Ferragosto. Sai che verranno tanti bresciani, c'è il gemellaggio. Sai che comunque i tifosi verranno e probabilmente ci saranno sorprese ancora anche per te. Insomma, è veramente la giornata delle emozioni questa. Quello sicuro. E mi fa piacere, però per il ruolo che ricopro devo cercare di metterle da parte in quel momento lì e concentrarmi su quello che sarà la partita, che come dicevo sarà difficile, però ovvio che questa cosa mi fa enormemente piacere, perché sono due tifosi di gemellate e spero che sia una giornata di festa e nient'altro. Qui a Mantua c'è grande entusiasmo, già quasi 2.000 abbonati avete fatto, c'è un nuovo corso societario, comunque si sono, diciamo così, sistemate le questioni a livello societario, non c'è più sette, è preso in mano tutto piccoli. Tu so che, insomma, continui a informarti, come ti ho chiesto anche l'altra volta, lei ha messo sei un lettore in Breshingall.com, leggi quella che è la situazione. Ecco, l'entusiasmo che c'è a Mantua purtroppo invece è l'esatto opposto a Brescia, dove c'è ancora grande tensione, anche perché Cedino ha ancora acquistato giocatori, sono un Bjarna, sono... Insomma, la squadra, tu dici, è una squadra forte, ma è ancora molto incompleta per fare la B. Sì, assolutamente, poi è ovvio che dovranno prima sapere di che morte morire, però sì, spero che si possa ricreare entusiasmo a Brescia. Ovvio che il Bresciano, come dicevamo, non è che ha bisogno di tantissimo per prendere entusiasmo, bisogna solo di capire un po' quali sono le intenzioni reali, che possa essere una salvezza piuttosto che vincere un campionato. Io credo che la chiarezza sia la base di tutto. E' quel particolare che secondo me ha portato entusiasmo qua per adesso, perché Cristian è venuto, eravamo una squadra in Serie D, siamo stati ripescati, ma comunque ha fatto in pochi giorni una squadra, credo competitiva per gli obiettivi che siamo prefissati, e tutto questo ha generato entusiasmo. Quindi il fatto di essere chiari e spiegare al tifoso qual è la strada da percorrere, credo che problemi poi non ce ne siano. E' ovvio, è vero che questo entusiasmo va un po' tenuto a bada, perché... Qui a Mantua. Qui a Mantua, quello che dico sì, qui a Mantua, perché sì, stiamo lavorando bene tutto quanto, però poi il campionato è un'altra cosa. Sappiamo dove eravamo venti giorni fa, che non sappiamo neanche che categoria, e quindi sappiamo che stiamo lavorando bene, però di andarci piano e facciamo un passo alla volta, perché? Perché sono tutti presupposti. Presupposti ci sono, però adesso stanno a lavorare, e ci saranno dei momenti di difficoltà, e secondo me è lì che dobbiamo noi da dentro cercare di alimentare l'entusiasmo che si è creato adesso. Torno un attimo solo sul Brescia, da ex attaccante, su un giocatore che tu hai allenato, che so ti piace, Flavio Bianchi, ti chiedo se, mettendogli in parte, visto che adesso non c'è più a IE, un attaccante strutturato, si parla di Soleri, o comunque un attaccante comunque di fisicità, e con dietro l'Olzer o il Galazzi di turno, può essere un buon attacco, e può essere magari proprio l'anno in cui Bianchi esplode definitivamente. Io credo che Bianchi abbia delle caratteristiche particolari, che sia, come si dice una volta, una seconda punta, che ha bisogno probabilmente di dialogare con un giocatore vicino, che poi sia di struttura o no, però è anche vero che al giorno d'oggi si può trovare il modo di poter far saltare le qualità, ovvio che ci vuole tempo, però adesso ci sono squadre che giocano col pennellone, ci sono squadre che giocano con tutti i giocatori brevilini, magari veloci, quindi dipende sempre un po' dall'idea di calcio che un allenatore ha, per mettere poi dentro dei giocatori, quindi penso che sia quello, ovvio che per le qualità che ha, per come è composto il Brescia, credo che un attaccante non solo per avere vicino Bianchi, ma proprio perché serve, numericamente. C'è Lino, chi per lui ti ha fatto l'imbocca al lupo dalla dirigenza del Brescia per questa nuova avventura a Mantua? No, dalla dirigenza del Brescia mi è arrivato Piovani e basta, qualche giocatore che mi fa molto molto piacere, tutto lì, però non mi aspettavo nient'altro, mi sarei sorpreso del contrario, perché sarebbero stati finti.